Altri 436 chilometri in un campionato paranormale. Se la stagione regolare si è chiusa con il trionfo dei lupi, la Paul Scudetto mette a segno il suo colpo di coda con la semifinale e la finale, rispettivamente il 31 maggio e il 2 giugno. Dopo vari tiri e molla, la sede stabilita per il match di venerdì alle 18.30 è Gubbio. Straordinaria location nel cuore dell'Italia, il comune in provincia di Perugia, ha un'estensione territoriale piuttosto ampia, colma di bellezze architettoniche, storiche ed enogastronomiche. Perfetta meta per un weekend lungo tra calcio e relax. Tra la cattedrale, la chiesa di San Francesco e quella di San Giovanni, spicca un non meno piacevole stadio Pietro Barbetti, impianto da 5.300 posti, pronto ad ospitare la passione bianco-verde nell'ennesima trasferta. 4 ore e 27 minuti per un ennesimo venerdì di sport e di tifo, che poi potrebbero portare, se mai dovesse andare bene la semifinale, contro la Pergolettese alla finale nella vicina Perugia. Ma torniamo a Gubbio. Lo stadio è stato inaugurato nel 1977, quando il Gubbio militava in promozione. Precedentemente chiamato San Biagio, in via ufficiale dal 6 maggio 2006, prende il nome di Pietro Barbetti, alla guida dell'AS Gubbio 1910, a partire dal 56 al 58 e dal 63 fino al 70. Finanziatore e sostenitore del Rosso Blu per oltre 30 anni, fino al giorno della sua morte, in data 7 aprile 86, mentre partecipava alla Mille Miglia, un'altra delle sue grandi passioni sportive. Memorabili alcune iniziative e disputate proprio al Barbetti, durante la preparazione ai mondiali di calcio d'Italia 90, la nazionale del Brasile ha giocato un amichevole proprio contro il Gubbio, allo stadio Barbetti, allora chiamato San Biagio, finita per 14 a 1 per la Sele Sao. Proprio questo stadio ha ospitato la finale della Pol Scudetto di Serie D tra Venezia e Teramo, conclusa con la vittoria dei Veneti per 3 a 2. Ora tocca a Lavellino in una location che riconcilia con il bello dell'Italia.